Giradito, 6 rimedi casalinghi per curarlo. L'unghia incarnita, oltre ad essere dolorosa se si infiamma, può facilitare la comparsa di altre infezioni e disturbi. Per questo motivo dobbiamo agire al più presto per frenare la sua progressione. Il giradito è un disturbo fastidioso e doloroso che può comparire a causa di un'unghia incarnita, di un'infezione o per la mancata cura delle dita. Questo disturbo è causato da un'infiammazione della pelle che circonda l'unghia, sia della mano che dei piedi, che producono ipersensibilità della zona, arrossamento e, a volte, pus. Anche se spesso non è grave tende a sparire dopo qualche giorno, la cosa migliore per frenare un giradito è quella di ricorrere ad un trattamento per eliminare il dolore ed evitare complicazioni. Per fortuna, non è necessario ricorrere a creme o prodotti farmaceutici per accelerare il processo si guarigione. Infatti, con l'aiuto di alcuni ingredienti di origine naturale, possiamo preparare diversi rimedi casalinghi che aiutano a ristabilire la salute della pelle. Prendete appunti. 1. Infuso di timo Il timo è una pianta dalle proprietà antinfiammatorie e antibatteriche. Pertanto, può essere di grande aiuto per il trattamento del giradito. Questi composti calmano la sensazione di bruciore e aiutano a prevenire possibili infezioni. Ingredienti 1 cucchiaio di timo, 10 g, 1 tazza d'acqua, 250 ml, preparazione Versate il timo in una tazza d'acqua bollente e coprite. Aspettate 10 minuti e colatela. Modo d'uso Immergete un batuffolo di cotone nel liquido e applicatelo sull'unghia. Lasciate agire 10 minuti e ripetete due volte al giorno. 2. La cipolla La cipolla contiene alcuni composti dello zolfo con effetti antibatterici che alleviano le infezioni causate dal giradito. Infatti, la sua applicazione diretta diminuisce l'infiammazione ed aiuta a rigenerare la pelle lesionata. Ingredienti 1-2 cipolla 1-4 di tazza d'acqua, 62 ml, preparazione Tagliate la cipolla a pezzetti e frullatela insieme all'acqua. Modo d'uso Spruzzate il succo ottenuto sul giradito e lasciatelo agire 20-30 minuti. Sciacquate con acqua tiepida e ripetete due volte al giorno. 3. Carota e miele Unendo le proprietà idratanti e rigeneranti della carota con l'effetto antibiotico del miele Possiamo ottenere un trattamento efficace contro i fastidi causati dal giradito. I suoi nutrienti riparano la pelle, alleviano il dolore ed aiutano a proteggere dall'attacco degli agenti patogeni. Ingredienti 1-2 cucchiai di miele, 50 g, preparazione Triturate una carota e, dopo aver ottenuto una pasta, mescolatela col miele. Modo d'uso Stendete il preparato sul giradito e lasciatelo agire 30 minuti. Sciacquate con acqua tiepida e asciugate delicatamente. Ripetete ogni giorno fino a quando la pelle non sia perfettamente curata. 4. Aglio e olio d'oliva L'aglio è uno degli ingredienti naturali che aiutano a frenare le infezioni delle unghie e le lesioni della pelle. In questo caso, potenziamo i suoi effetti con l'olio d'oliva, per ottenere una crema riparatrice ed idratante. Ingredienti 1 spicchio di aglio crudo 1 cucchiaio di olio d'oliva 16 g, preparazione Triturate l'aglio crudo fino ad ottenere una pasta e mescolatelo con l'olio d'oliva. Modo d'uso Strofinate la pasta sulla zona interessata e mantenetela in posizione con una banda. Lasciate agire tutta la notte e ripete l'uso fino a quando non si sia curato. 5. Sali di Epsom Per il giradito I sali di Epsom agiscono come un disinfettante naturale ed aiutano a prevenire le infezioni del giradito. La loro applicazione ammorbidisce le pelle, rimuove le cellule morte e aiuta il processo di guarigione. Ingredienti 3 cucchiai di sali di Epsom 45 g, 1 tazza d'acqua, 250 ml, preparazione e sciogliete i sali in una tazza d'acqua calda. Modo d'uso Sciacquate la zona interessata con il liquido o, ancora meglio, immergete il dito per 20 minuti. Ripetete ogni giorno, fino a quando non noterete un miglioramento. 6. Curcuma e olio di senape Questo rimedio antibatterico ed analgesico aiuta a calmare la sensibilità che si produce sulla pelle a causa dell'infiammazione da giradito. I suoi antiossidanti contribuiscono a rigenerare i tessuti danneggiati e, allo stesso tempo, creano uno strato protettore contro i funghi e i batteri. Ingredienti 1 cucchiaino di curcuma, 5 g, 1 cucchiaio di olio di senape, 15 g, preparazione Mescolate la curcuma con l'olio di senape, fino ad ottenere una pasta densa. Modo d'uso Strofinate il preparato sulle unghie colpite e lasciatelo agire 30 o 40 minuti. Sciacquate con acqua tiepida e ripetete l'uso due volte al giorno. Se notate pellicine o zone arrossate intorno alle vostre unghie, non esitate a provare uno di questi rimedi per evitare che sfoci in un giradito. Ricordate di idratare bene la pelle e curarla in modo tale da evitare ricadute.